Grazie a tutti. Grazie all'invito, grazie a quelli che sono venuti per l'ennesima volta a sentire le cose che dico io, che è una cosa che mi stupisce perché dico sempre le stesse cose. Io vengo spesso qui nel Circo dei lettori in questa sala e qui ho fatto anche diversi seminari come quello che ha generato un libro che si intitola Repertorio dei Matti alla città di Torino. Io ho cominciato a scrivere nel 1996 e in quel periodo lì ho cominciato a leggere la letteratura italiana contemporanea, che prima leggevo poco, leggevo solo la punta dell'iceberg, quelli che si conoscevano. E dopo ho scoperto che c'erano anche della gente che non vendeva tanto ma che era interessantissima. E' uno dei libri più belli che mi è capitato in quel periodo lì, di grandi, leggevo un sacco e erano letture molte stupefacenti, sia nel senso che erano bellissime, sia nel senso che erano bruttissime, o che mi sembravano bruttissime. E uno dei primi libri che mi ha colpito è Il repertorio dei pazzi a città di Palermo, di Roberto Alaimo. E' una volta che una serie di raccontini minuscoli, o ce ne sono alcuni anche di una pagina e mezzo, ma insomma sono 150 squinternati, ecco. Sono pazzi, veramente pazzi, ma anche c'è anche lo stesso Alaimo, cioè uno è un'autobiografia, lui che racconta una sciocchezza che ha fatto. Lui ha fatto quattro edizioni di quel libro lì, mi ha detto, e in tutte e quattro ha messo il sindaco di Palermo, che era quello che ha fatto la rete, come si chiama, Leoluca Orlando. E mi ha detto, Roberto, che Leoluca Orlando si è riconosciuto tutte e quattro le volte, e tutte e quattro le volte gli ha scritto e gli ha detto grazie, che mi ha messo nel repertorio dei pazzi a città di Palermo. E beh, quando facevo i seminari di letteratura, quel libro lì lo usavo come libro di testo, cioè leggevo dei pezzi. E una volta ho fatto questo seminario a Genova e i genovesi, secondo me, sono tutti un po' squilibrati, non so se avete fatto, cioè hanno tutto un modo loro che mi piace. E allora sti ragazzi, c'erano una ventina di ragazzi che facevano questo seminario e gli ho detto, ma voi vi mettete insieme, perché non fate il repertorio dei matti a città di Genova, che avreste un sacco di materiale. E loro non l'hanno mica fatto, insomma, non la faccio tanto lunga, ma sono tornato a Bologna, io abito a Bologna dal 99, però sono di Parma, e a guardare i bolognesi ho pensato, ma anche noi avremmo. E allora ho proposto a Claudia Tarolo di Marcos e Marcos di fare, di lanciarci in questa avventura, mi hanno chiesto l'autorizzazione a Laimo che ce l'ha data, mi ha ceduto il merchandising, dice. E abbiamo fatto il repertorio dei matti a città di Bologna, di Milano, di Torino, di Roma, di Genova anche, ne abbiamo fatti i 15, che sono scritti, sono libri scritti da quelli che partecipavano al seminario. Io non ho, li ho solo, ho fatto il seminario, ho dato due indicazioni su come scrivere e poi li ho montati, cioè ho fatto la cernita e ho fatto, però non ho scritto lì. E quello di Torino che abbiamo fatto qua, mi viene sempre in mente quello che abbiamo messo poi nella quarta copertina di questi. Uno telefonava ai vicini per dirgli che dalla sua finestra vedeva un quadro storto e per favore di drizzarlo se no non riusciva a dormire, che ha a che fare con l'errore e che ha a che fare molto con Torino. E l'altro giorno sono stato a Parma a parlare di Russia, tanto per cambiare, e alla fine mi sono messo a firmare i libri e tra gli ultimi è arrivato un ragazzo che aveva in mano il repertorio dei matti a città di Parma, che ho fatto anche quello, e mi ha detto io sono arrivato a dieci minuti, non ho sentito niente, ma ti ho già sentito le altre volte, siccome te dici sempre le stesse cose, non ho perso niente, vero? E' vero, gli ho detto io, gli ho firmato il repertorio e intanto che glielo fermavo gli ho detto io in questo libro non ho scritto niente e lui mi ha detto benissimo. Qui una volta sono venuto a presentare un libro che si chiamava La grande Russia portatile e alla fine, quando si chiede a vedere le domande, un signore si è alzato e ha chiesto senta io il libro l'ho letto, l'ho già letto e mi sono accorto che non parla mai di Vassili Grossman. Come mai? Eh perché non mi piace, gli ho risposto io. Un anno e mezzo dopo sono venuto a presentare un libro che si chiama I russi sono matti e alla fine, al momento delle domande, si è alzato un signore e mi ha detto senta io il libro l'ho già letto e mi sono accorto che non cita mai Vassili Grossman, come mai? Ma lei, gli ho chiesto io, è lo stesso un anno e mezzo fa? Sì, mi ha detto lui. Eh, gli ho detto io, la risposta è la stessa un anno fa, perché non mi piace? Allora, quando mi hanno detto che per questo discorso sull'energia dell'errore, che è l'ultimo libro di Viktor Sklovski, era tutto esaurito e ho pensato, ma perché vengono sempre a sentire sempre le stesse cose e a fare sempre le stesse domande? Forse perché quest'anno il tema del festival è l'errore e loro fanno consapevolmente un errore, buttano via una serata, chissà, non indaghiamo. L'altro, ieri ho fatto una cosa qui al festival con un mio amico, che è un grande violoncellista, Enrico Bronzi, al Teatro Gobetti. Io ho letto delle cose di un autore russo che si chiama Daniel Harms e lui ha suonato dei pezzi di una compositrice russa che si chiama Sofia Gubaidulina. Mi è venuta in mente una cosa che mi è successa l'anno scorso, che forse ho già raccontato l'anno scorso, quando sono stato qui al festival l'anno scorso, ma forse no. Io dico sempre le stesse cose, ma non sempre le stesse stesse, cioè sono le stesse ma cambiano. Questa cosa l'ho detta però sicuramente l'altro ieri, al Teatro Gobetti, quindi comunque sono poi sempre le stesse cose. L'anno scorso in agosto ho stato a Pietroburgo e quando sono tornato la prima cosa che ho fatto è stata una presentazione, sono andato a Arona a presentare, vi avverto che vi ho per l'ultima volta, che è un romanzo su Anacmato che ho pubblicato l'anno scorso per Mondadori. Mi aveva invitato Dacia Maraini, che abbiamo presentato il libro insieme, e dopo la presentazione siamo andati a cena e alla fine della cena è arrivato un signore vestito da politico, con un abito scuro, una camisa bianca, una cravatta nera, una spilla all'occhiello, che ha salutato Dacia Maraini molto calorosamente. Ho scoperto poi dopo che era l'ex sindaco di Arona, che all'epoca e anche adesso credo era parlamentare, e Dacia mi ha presentato, gli ha detto lui è Paolo Nord, abbiamo appena presentato il suo libro su Anacmatova. La signora lì ha fatto una faccia come se, per dire che lui non sapeva chi era Anacmatova, che è una cosa normale, cioè la maggioranza della popolazione italiana, come giusto, come comprensibile, ecco non sa chi è Anacmatova, e io gliel'ho detto, una grande poetessa russa, io ho scritto un romanzo su di lei, sono un appassionato di letteratura russa. E lui ha cambiato ancora faccia, ha abbassato la voce e ha detto queste sono cose che in questo periodo bisogna dirle un po' a bassa voce. E lui ha detto bene, io non faccio altro che dirle ad alta voce, è una cosa bella di Torino spiritualità, e di questo posto dove siamo, il circolo dei lettori, è che nessuno in questi anni, ha mai nemmeno immaginato, credo, che parlare di autori russi, leggere autori russi, eseguire musicisti russi fosse una cosa da fare un po' a bassa voce, anche in questo periodo. E di questo io mi sento di ringraziare il Festival, Armando e tutti voi che siete qui ad ascoltare. Grazie per questa cosa che dovrebbe essere normalissima, che in questo periodo è diventato un segno di civiltà. Qualche mese fa io ho fatto un intervento titolato Allegro e leggero come un ombrello estivo a Cesena, sottotitolo Apologia dell'arte russa. Il titolo è una citazione di Zoo, o Lettere non d'amore, di Viktor Shklovski, l'autore anche del libro di cui dovrei parlare stasera, che è un romanzo epistolare nel quale Shklovski scrive alla donna di cui è innamorato e che non lo ama. Prima le chiede l'autorizzazione a scriverle e lei gliela dà, a patto che lui gli parli di qualsiasi cosa tranne che d'amore. E lui subito le scrive, mi hai assegnato due compiti, non telefonarti, non vederti. Adesso sono un uomo impegnato. Poi dice che anche prima si scrivevano e che lei, la donna di cui è innamorato, gli aveva scritto una lettera che terminava con una frase crudele. Smetti di scrivere quanto, quanto, quanto mi ami, perché al terzo quanto comincio a pensare a qualcos'altro. L'autore del libro, aggiunge Shklovski, augura sinceramente ai suoi lettori di non ricevere mai una lettera del genere. Insomma Shklovski è disperato e a un certo momento le scrive, ma non vale la pena di piangere, vedi, io sono allegro e leggero come un ombrello estivo. È un po' la condizione di noi innamorati della Russia in questo periodo che è più difficile parlarle d'amore e voi mi date l'occasione di farlo, io ve ne sono grato. Io a leggere Shklovski trovo tante di quelle cose che mi piacciono, per esempio Shklovski istituisce dei legami tra me e Albert Einstein, legami che vedo anch'io ma non tanti altri. Io mi vesto sempre nello stesso modo e quando ho saputo che anche Einstein si vestiva sempre nello stesso modo, chissà se è vero, mi hanno detto che va a sette completi uguali nell'armadio, uno per ogni giorno della settimana. Io ho pensato che bello, ecco vedi, io mi vesto come Einstein. E la mamma di mia figlia, quando parlo e scrivo di lei la chiamo Togliatti perché lei è laureata in storia dell'Unione Sovietica e crede di essere il migliore e delle volte quando siamo in buoni rapporti la chiamo anche Palmiro. Ecco, quando parliamo del fatto che io mi vesto sempre uguale, lei dice come Paperino, non come Einstein, ma come Paperino. Allora, quando Shklovski leggo che Einstein diceva che l'impressione più forte della sua vita è la data Raskolnikov e la seconda è la scoperta della relatività, io non ho scoperto la relatività ma la prima, l'impressione più forte della mia vita viene da Raskolnikov, il protagonista dei diritti e castigo come Einstein, Paperino non lo so quali fossero le sue letture preferite, ma di me e di Einstein lo so e sono uguali. E per esempio, dopo smetto, una volta un esordiente mi ha chiesto di scrivere una prefazione al suo romanzo e io gli ho ricordato una cosa che diceva Shklovski, sono due tipi di romanzi d'esordio, quelli con prefazione e quelli senza. Quelli senza durano di più e questo esordiente mi ha ringraziato che non gliel'ho scritta la prefazione. È utilissimo Shklovski per chi fa il mio mestiere e ha ragione quando scrive quella cosa lì la prefazione e anche delle altre volte mi sembra che abbia ragione. Il libro del quale mi hanno chiesto di parlare oggi è l'ultimo libro scritto da Viktor Shklovski, è uscito nel 1981, quando Shklovski aveva 88 anni. Si intitola L'energia dell'errore e è difficilissimo dire in poche battute di cosa parla. Viene sempre in mente un altro scrittore russo, Vladimir Nabokov, che una volta gli hanno chiesto qual è il messaggio del suo romanzo e lui ha risposto a un messaggio, non so mica un postino per portare un messaggio. Viene anche in mente una cosa che ho letto e riletto in questo libro di Shklovski che è la risposta di Mark Twain alla domanda come si scrivono i romanzi, che Mark Twain ha risposto stando seduti, che insomma quando metto queste cose sui social qualcuno obietta che Hemingway scriveva stando in piedi, vabbè ci sono le eccezioni, però io anch'io scrivo stando seduti. Mi viene in mente uno che tanti anni fa ha fatto un corso di scrittura con me e mi ha raccontato che una volta a scuola gli avevano fatto leggerla Gerusalemme liberata e gli avevano chiesto di farne un riassunto. E lui l'aveva fatto e il suo riassunto era Gerusalemme è stata liberata. Ecco, io non sono capace di fare un riassunto così preciso e penetrante del libro di Shklovski del quale parliamo oggi, anche perché è un libro complicativo. E' un libro che dice che è basato su... La frase, il titolo viene da una frase di Tastoi a una lettera a Strachov e Tastoi dice che non riesce a cominciare il romanzo che avrebbe voluto perché gli manca l'energia dell'errore, cioè gli manca la... come dire... di accettare il fatto che ci si sbaglia, perché a scrivere un romanzo ci si sbaglia come a fare qualsiasi altra cosa al mondo, ma quella lì è una cosa grossa, ci si sbaglia per forza. Lui quando ha cominciato a scrivere Guerra e Pace voleva scrivere un romanzo che parlasse della rivolta dei De Cabristi che avviene nel 1825, erano gli anni 60 e ha scritto un sacco, poi si è accorto che era troppo presto, erano passati solo 40 anni e ha retrocesso la vicenda, il romanzo comincia nel 1805 e poi si conclude con la battaglia con Napoleone. Adesso... posso cominciare... è difficile riassumere questa roba qua e... no, scusate, stavo dicendo... lui dice che è difficile cominciare i romanzi e questo libro lo ricomincia sei volte tipo cioè ci sono tipo quattro prefazioni all'inizio è complicatissimo, sembra e poi invece prende un Andiamo che è uno forse dei libri più belli ed è un peccato che non sia stato ristampato. Io ho una vecchia edizione degli editori riuniti negli anni 80 che ho trovato da una qualche parte, non mi ricordo neanche più dove e però insomma è difficilissimo trovarlo anche su Mare Magno ma insomma nei libri usati perché chi ce la... se la tiene. Ecco, quindi essendo difficile parlare subito del libro e parlare del libro per 50 minuti faccio... comincio a parlare di Shklovski che è un signore che è nato a Pietroburgo nel 1893 che è morto a Mosca nel 1984 ed è il modo in cui l'ho conosciuto io la prima volta che ne ho sentito parlare. Adesso la letteratura a me mi fa un effetto che mi rendo conto che è un effetto strano e me l'ha fatto la prima volta nel 1976 quando avevo 13 anni e ho letto il primo libro senza figure il primo libro senza figure che ho letto nella mia vita cioè il libro da grandi era un libro di mio nonno in casa mia quello che leggeva era mio nonno si chiamava Gaspare Chiapponi che era un muratore aveva fatto la terza elementare e io l'ho sempre visto con dei libri in mano all'epoca quando pioveva i muratori non andavano a lavorare c'era la cassa edile e noi abitavamo... io abitavo... noi abitavamo a Parma in una periferia nord e al sesto piano c'era il nostro appartamento anche mio babbo faceva le case e era un condominio che aveva costruito mio babbo al terzo piano abitava mio nonno e mia nonna quando io ero piccolo mia mamma andava a lavorare ci portavano a casa nell'appartamento di mio nonno se pioveva mio nonno era lì su una poltrona che leggeva dei libri sempre e io che avrò avuto tre anni o quattro mi chiedevo ma cosa c'è lì dentro che interessa tanto al nonno che roba c'è lì dentro e dopo ho cominciato a leggere e a tredici anni ho letto mio nonno era già morto è morto fulminato su un cantiere che io avevo nove anni i primi libri che ho letto il primo libro mi ricordo è Il buio oltre la siepe di Harper Lee io pensavo fosse uno scrittore americano ho scoperto tanto tempo dopo che era una scrittrice america perché Harper è un nome che... e mi ricordo di quel momento lì che ho letto Il buio oltre la siepe io mi ricordo tutto cioè io ho 61 anni è una cosa che è successa quando ne avevo 13 cioè quasi 50 io mi ricordo la sedia su cui ero seduto eravamo in campagna nella casa che stava ristrutturando mio babbo mi ricordo mio babbo che passava con dei secchi di calcio mi ricordo mia nonna in cucina che cantava mi ricordo la luce che c'era nell'aria e mi ricordo lo stupore due stupori primo il fatto che in un libro senza figure ci fossero tanti di quelle figure uno non finiva più di disegnare secondo mi ricordo lo stupore dovuto al fatto che io siccome ero dentro nel libro non ero escluso dal mondo cioè il libro rendeva la sedia, mio babbo, la nonna, l'aria più mondo cioè il mondo grazie alla letteratura diventava più mondo ecco io questa i libri questa cosa mi succede poi tutte le volte che incontro un libro che ho incontrato un libro importante nella mia vita proprio l'immagine del momento in cui li ho incontrati io ho fatto una tesi su Vienimir Klibnikov che Shklovski conosceva quel libro di cui Zo ho lettere non d'amore il titolo è il titolo di una poesia di Klibnikov che in russa è Svierignez e che io ho tradotto in un altro modo questa è la traduzione di Angelo Maria Ripellino io ho tradotto il Serraglio che è citata in epigrafe è una poesia lunga sono tipo quattro pagine e l'epigrafe è lunghissima di questo romanzo e Klibnikov è citato anche dentro il libro è un personaggio di questo romanzo ecco io ho fatto la tesi su Klibnikov e Klibnikov che è un poeta che è nato nel 1885 è morto nel 1922 è un poeta che mi ha cambiato la testa e mi ha dato le parole per decifrare quello che mi succede io tutte le volte che arrivo in Russia quando alzo la testa mi viene in mente una poesia di Klibnikov che dice poco mi serve una crosta di pane un ditale di latte e questo cielo e queste nuvole e quando penso alle due donne più importanti della mia vita mia figlia e sua mamma viene in mente l'inizio di una poesia di Klibnikov che dice le ragazze quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore perché loro fanno quello e me l'ha detto lui e io la prima poesia di Klibnikov della mia vita l'ho letta agli inizi degli anni 90 nella biblioteca Guanda di Parma c'è una piccola biblioteca nel centro di Parma in Borgo del Correggio e mi ricordo perfettamente ero lì in piedi davanti allo scaffale dei russi e ho tirato giù un'antologia di Angelo Maria Ripellino Poeti Russi del Novecento l'ho aperta e ho letto quando stanno morendo i cavalli respirano quando stanno morendo le erbe si seccano quando stanno morendo i soli si spengono quando stanno morendo gli uomini cantano delle canzoni e io ho un buon udito per il momento ma se avessi avuto un udito migliore avrei sentito in quel momento lì gli scambi della mia vita che mi portavano in un'altra direzione perché lì è cambiata la mia vita e io di quel momento lì solo a ripensare vedo la luce della biblioteca Guanda quel giorno lì vedo le teste degli studenti sui loro libri il mondo anche quella volta lì è diventato più mondo e il mio incontro con Shklovsky uguale nel 2016 ero a Milano presentavo una raccolta di racconti di un grande scrittore russo non tanto conosciuto che si chiama Lyskov uno scrittore dell'Ottocento che era amico sia di italo storico più di italo storico che di Dostoevsky ma conosceva anche Dostoevsky si intitola Tre Giusti e in quell'occasione nel 2016 a Milano ho detto l'anno prossimo è il 2017 che è una cosa a me ogni tanto vengono questi pensieri intelligente da un momento all'altro potrei dire che l'anno scorso è stato il 2023 o che l'anno prossimo sarà il 2025 solo che quell'anno lì l'anno dopo era il 2017 che nella storia della Russia era il centenario di una cosa importante e io mi ricordo a Milano nel 2016 ho detto l'anno prossimo è il 2017 e sono 100 anni che è uscito uno straordinario articolo di critica letteraria e non l'ho fatto per farlo spiritoso proprio nella mia testa il 2017 non era il centenario della rivoluzione russa era il centenario di un articolo che si chiama l'arte come procedimento che è un articolo che ha scritto Viktor Shklovsky quando aveva 24 anni precocemente avviato alla calvizie e con quell'articolo ha introdotto nel dibattito letterario la teoria dello straordinamento io di questo articolo ne ho sentito parlare per la prima volta nel 1988 all'università di Parma durante una lezione francese di una professoressa torinese che si chiama Mariolina Bertini eravamo in Aula Magna nel dipartimento di lingue io ho fatto tante lezioni lì in quell'Aula Magna in Via de San Michele ma se penso all'Aula Magna di Via de San Michele penso a quel momento lì quando ho sentito parlare per la prima volta di Viktor Shklovsky e dello straordinamento che è una cosa la teoria dello straordinamento come tutte le teorie dei cosiddetti formalisti russi il gruppo di critici del quale Shklovsky faceva parte formalisti era un'accusa che gli facevano gli dicevano voi siete attenti solo alla forma e non al contenuto e loro hanno assunto questo insulto come il proprio nome e chiaramente dicevano noi siamo un po' come i Beatles che era un insulto all'inizio questa cosa di scarafaggi del Beat del Beat ecco pensare ai formalisti uno pensa formalisti russi c'è anche quella antologia di Einaudi uno pensa una cosa noiosa astrusa sembra che questo insomma i formalisti russi sembra un tema che riguardi noiosi ragionamenti in un noioso gruppo di persone appassionate di noiose discussioni su libri noiosi e evitabili invece a leggere l'articolo Shklovski spiega lo stranamento in un modo che a me sembra comprensibilissimo e a me sembra che lo stranamento riguardi non solo i libri ma che sia una cosa che ci è successa e ci succede a tutti noi nelle nostre vite Shklovski comincia chiedendosi che cos'è lo stile e la risposta che all'epoca era comunemente accettata enunciata dal filosofo inglese Herbert Spencer che lo stile più alto è lo stile di chi dice il maggior numero di cose possibile col minor numero di parole perché così si viene incontro alla necessità di risparmio delle energie percettive questa risposta secondo Shklovski valeva nel linguaggio comune ma non nel linguaggio poetico perché secondo lui lingua comune e lingua poetica avevano delle regole diverse come la geometria euclidea e quella non euclidea la geometria se noi immaginiamo che il mondo sia piatto le regole della geometria euclidea valgono se la superficie su cui mettiamo i nostri quadrati è una superficie curva concava o conversa le regole cambiano secondo Shklovski le geometrie sono diverse e Shklovski spiega questa cosa così provate a ricordarvi la sensazione che avete provato la prima volta che avete tenuto in mano una penna e confrontatela con la sensazione che provate la milionesima volta che l'avete fatto io non mi ricordo la sensazione della prima volta che ho preso in mano una penna così come non mi ricordo io sono arrivato l'altro ieri qua perché ho fatto una cosa e mi hanno fatto un'intervista qui e mi hanno chiesto qual è il primo errore che hai fatto io come faccio a ricordarmi il primo errore che ho fatto che ne faccio continuamente io oggi mi sono svegliato sono in albergo qui all'hotel Victoria alle 5 e 3 quarti è andata bene cioè si tirava avanti non venivo ecco cioè io continuamente faccio le cose da deficiente ecco e poi ho 61 anni e comincio a dimenticarmi le cose ecco l'altro giorno ho fatto un intervento pubblico cioè me ne sono sempre dimenticato e mi hanno chiesto quali sono i miei libri preferiti di Dostoevsky e il titolo di un libro non me lo ricordavo e non me lo ricordo neanche adesso il villaggio no me lo sono ricordato il villaggio di Stepancico e i suoi abitanti non mi ricordavo Stepancico e gli ho detto il villaggio e i suoi abitanti il villaggio di e i suoi abitanti cercatelo in rete quello cercatelo eh una cosa ho incontrato Andrea Moro che è un 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 grande neurolinguista che mi ha spiegato che i nomi sono da un'altra parte nel cervello rispetto al linguaggio comune quindi mi ha dato speranza ecco ecco lui io non me la ricordo mentre la milionese cioè io ci lavoro con le penne cioè tutti i giorni io la prima cosa che faccio quando mi sveglio al mattino prendo una penna apro un un quaderno che ho ci scrivo la data dove sono è buon l'ora è buongiorno ecco quando prendo la penna al mattino ma tutta io non sento neanche di avere in mano una penna e mi accorgo di avere in mano una penna se la penna non scrive delle volte succede e mentre che è esattamente il contrario della prima io non mi ricordo quella prima impressione ma mi immagino cosa deve essere stato lo stupore di un bambino forse di due anni che si accorge che quel pezzo di 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 materia che ha in mano lascia un segno ecco deve essere stata una cosa appunto stupefacente e poetica in un certo senso come come dice dice Shklovski eh allora secondo Shklovski la le leggi del linguaggio quotidiano si applicano quando parliamo per la milionesima volta senza fare attenzione all'incanto di quel che diciamo mentre le regole del linguaggio poetico si applicano quando vediamo facciamo una cosa o vediamo una cosa per la prima volta e le regole del linguaggio quotidiano si spiegano ricorrendo all'automatismo di certi processi dice Shklovski cioè questo modo algebrico di parlare porta a concepire le cose come numero e spazio noi non le non le vediamo non le evochiamo le riconosciamo solo dai loro primi e più appariscenti contrassegni se io per esempio appena mi sveglio chiedo a mia figlia c'è il sole uso la parola sole come cioè senza senza però quel sole lì che dico io non scalda non è già cioè non ha niente a che vedere col sole ecco e dire sole scrive Mandestam che è un altro poeta significa compiere un lunghissimo viaggio al quale siamo però talmente abituati che viaggiamo dormendo la poesia si distingue dal linguaggio automatico dice Mandestam perché a metà della parola ci riscuota e ci sveglia la parola ci pare allora molto più lunga di quanto credessimo perché ci ricordiamo che parlare significa essere sempre in cammino cioè quando sentiamo dire sole in poesia ci viene caldo nella lingua ordinaria invece le cose di cui parliamo anche il sole ci passano davanti come a volte in un involucro come se fossero imballate sappiamo che esistono che occupano spazio ma ne vediamo solo la superficie questo modo algebrico secondo Shklovski è il modo di percepire le cose nel linguaggio ordinario che ha il vantaggio di permettere di riposarci ecco e poi Shklovski cita un passo dei diari di tasto con lo straccio della polvere in mano ho fatto il giro della mia camera scrive Tastoi ma quando sono arrivato al divano non sapevo più se l'avevo spolverato oppure no siccome nello spolverare i movimenti sono abituali e inconsci non riuscivo a ricordarmi se li avevo già fatti e mi sembrava oltretutto che non sarei mai riuscito a ricordarmi se ho spolverato e poi mi sono dimenticato di averlo fatto continua Tastoi cioè se ho agito inconsapevolmente è proprio come se non fosse successo niente se la vita di molti uomini con tutta la sua complessità scorre inconsapevolmente scrive Tastoi allora è come se non ci fosse mai stata lo scrive nel 1897 così commenta Shklovski la vita passa si annulla l'automatizzazione inghiotte tutto cose abiti mobili la moglie e la paura della guerra se la vita di molti uomini con tutta la sua complessità scorre inconsapevolmente allora è come se non ci fosse mai stata non so se si capisce si capisce? perché io non c'è bisogno del mio esempio l'esempio che faccio che faccio sempre riguarda una cosa che mi ha detto un mio amico di Bologna che si chiama Jean Talon che mi ha raccontato che anni fa quando c'era ancora Umberto Eco hanno chiamato l'Università di Bologna un cantaustorie senegalese e questo cantaustorie era uno che di mestiere come succedeva nelle nostre nelle cantine nelle nelle stalle emiliane quando era giovane mia nonna negli anni 20 e 30 c'era della gente che di mestiere raccontava delle storie ecco e questo lo faceva adesso in Senega adesso insomma alla fine del secolo scorso in Senegal e gli avevano fatto venire dal Senegal e gli avevano detto guarda la vita qui a Bologna in Occidente e poi scrivi una canzone da cantare poi ai tuoi concittadini senegalese ai tuoi compatrioti e lui è stato lì un po' di giorni e guardate alla fine ha detto ha scritto la sua canzone e nella canzone c'era una parte che diceva sapete che qui in Europa al mattino c'è un sacco di gente che va in giro legata ad un cane che è esattamente che per uno che non ha mai visto un guinzaglio è la cosa che succede anche qui a Torino anche sotto casa mia solo che io sono così abituato ai guinzagli che non li vedo ecco il guinzaglio per me è entrato in quella parte automatica della percezione di cui parla Shklovski ecco e poi e poi secondo Shklovski per risuscitare la nostra percezione della vita per rendere sensibili le cose per fare della pietra una pietra esiste questa ed è il guinzaglio un guinzaglio esiste questa cosa che noi chiamiamo arte lo scopo dell'arte scrive Shklovski è darci una sensazione della cosa sensazione che deve essere visione e non riconoscimento e per ottenere questo risultato secondo Shklovski l'arte si serve di due procedimenti lo straniamento delle cose e la complicazione della forma con la quale si tende a rendere più difficile la percezione e a prolungarne la durata a questo punto la prima volta che ho letto questo articolo io ho pensato beh questa cosa è la complicazione del prolungamento della durata io non la capisco però Shklovski poi cita un'altra volta Tastoi e mi sembra che questa citazione spieghi le cose benissimo l'altra citazione di Tastoi viene da un articolo che si intitola Una vergogna nel quale Tastoi si chiede ma perché da noi c'è questo crudele modo di punire gli uomini che consiste nel denudarli gettarli a terra e colpirli sulla schiena con le verghe e colpirli ancora sulle natiche nude perché si chiede Tastoi ricorrere a questo metodo stupido e barbaro invece che a un altro per causare dolore a un uomo per esempio perché non gli si conficcano degli aghi nelle spalle o in un'altra parte del corpo perché non gli si serrano in ceppi le mani o i piedi perché non si inventa qualche altro sistema analogo ecco Tastoi in questo passo descrive una cosa molto comune in Russia alla sua epoca denudare gli uomini gettarli a terra colpirli sulla schiena con le verghe poi colpirli ancora sulle natiche nude corrispondeva alla pratica della fustigazione all'epoca la fustigazione era molto comune e la liceità della fustigazione era molto dibattuta e se Tastoi avesse detto perché fustigazione per esempio all'epoca c'era la servitù della gleba buona parte della popolazione russa era in stato di schiavitù erano servi della gleba non erano padroni di se stessi ma avevano dei padroni la maggior parte degli scrittori russi dell'Ottocento tra cui Tastoi che noi adoriamo erano proprietari di schiavi erano proprietari di servi della gleba una delle possibilità che aveva un padrone un proprietario di un servo della gleba se secondo lui il servo della gleba si comportava male era farlo fustigare era condannarlo a 30 frustate e i nobili russi dell'Ottocento che avevano letto gli illuministi molti dei quali credevano a libertà egalità fraternità erano altro che egalità cioè avevano degli schiavi e questa cosa e molti di loro erano per l'abolizione della servitù della gleba mentre c'erano altri che è celeberrima una lettera che la sorella di Gogol scrive la risposta a questa lettera la sorella di Gogol ha vissuto a Roma per tanto tempo ha scritto anime morte a Roma e chiedeva però siccome scriveva sempre di Russia chiedeva che dalla Russia gli scrivessero e gli raccontassero molte cose e la sorella gli scrive una lettera e gli dice guarda io io sono ho dei serviti della gleba e posso farli fustigare ma che senso ha cioè non sono anche loro figli di Dio come noi e Gogol risponde e le dice no ma tu non sei stata messa lì per caso cioè la tua condizione di proprietaria viene da Dio è Dio quindi farli fustigare tranquillamente questa lettera quando è stata pubblicata c'è stato un grande dibattito Bielinski ha scritto una celeberrima lettera a Google che dice a Malcovati che tutti gli studenti russi la conoscevano a memoria e che era stata vietata e è la lettera per aver letto la quale Dostoevsky viene condannato a morte nel 1849 quindi c'era un grande dibattito in Russia in quel periodo lì sulla liceità della fustiga di questa pratica e se Tastoi avesse detto ma perché fustighiamo gli uomini tutti avrebbero capito tutti i lettori avrebbero capito di cosa si trattava ma avrebbe detto la stessa cosa Tastoi io ho l'impressione che avrebbe detto una cosa molto diversa o che avrebbe fatto un effetto completamente diverso perché la fustigazione la cosa in sé sarebbe passata davanti ai lettori come imballata ognuno avrebbe richiamato il proprio concetto di fustigazione avrebbe magari ricordato le discussioni sulla liceità di fustigare i servi della gleba all'epoca avrebbe magari pensato ecco vedi Tastoi rispetto alla fustigazione la pensa così io invece la penso come Gogol ma Tastoi non parla di fustigazione parla di denudare un uomo gettarlo a terra colpirlo sulla schiena con le verghe colpirlo ancora sulle natiche nude rallentando il riconoscimento subito non si capisce che si sta parlando di fustigazione allungando la visione facendo vedere queste 3-4 sequenze dell'atto di fustigare sperando energie anziché risparmiarne Tastoi risuscita nei suoi lettori la fustigazione gliela rende sensibile gliela fa vedere come se fosse nuova gliela toglie dall'imballaggio il lettore non ha tempo di pensare alle sue convizioni ai dibattiti che ha sentito agli occhi pieni di questi uomini denudati settati a terra e colpiti sulla schiena con le verghe e colpiti ancora sulle natiche nude descrive il mondo come se lo vedesse per la prima volta scrivere secondo Sklowski vuol dire sforzarsi di vedere il mondo come se lo si vedesse per la prima volta a me viene da dire farsi crescere dentro la pancia una piccola macchina per lo stupore cioè sarebbe come dire che l'arte riattiva se ho capito il senso del pezzo di Sklowski una facoltà che abbiamo tutti uno sguardo che c'è dentro di noi ma che salta fuori solo quando incontra una causa scatenante come non mi stanco di dire una cosa che mi piace di Tastoi di Dostoevsky di Anna Khmato della letteratura è il fatto che mi fa vedere anche le cose che sono in casa mia che mi circondano come se le vedessi per la prima volta la letteratura questa cosa lo dice Giorgio Agamben in un suo saggio in un libro che si titola Il fuoco e il racconto non rende visibile l'invisibile rende visibile il visibile fa sì che la pietra sia pietra come dice Sklowski qui c'è un altro esempio che ho fatto tante di quelle volte ma insomma io quando avevo 16 anni mi piaceva disegnare mi piaceva io passavo mi ricordo perfettamente anche quell'esperienza lì che passavo un'ora al giorno prima di cena di solito avevo una piccola schivania avevamo una stanzetta minuscola io e mio fratello piccolo e in fondo c'era incastrato una schivania io mi mettevo lì e copiavo dei fumetti che avevo in casa mia avevo diversi fumetti quelli che mi piacciono di più erano Asterix e Corto Maltese di Ugo Pratt che è un tratto meraviglioso e mi piaceva molto la condizione della mia testa in quei momenti in quell'ora lì mi sembrava come se fossi cioè un momento di sanità mentale cioè di pulizia nella mia testa bello ecco che mi piaceva il problema c'era un problema nell'andare avanti perché copiare va bene però poi se uno vuole disegnare delle cose sue io non avevo mai fatto ricorsi di disegno tecnico cioè non avevo nessuna idea neanche di disegno non tecnico cioè non avevo nessuna idea io ho fatto ragioneria alle elementari alle medie ragioneria poi ho studiato lingue e letterature straniere le ore di disegno appunto erano ore buche ecco come o più o meno e allora all'epoca usciva una un inedicola dei corsi delle dispense dei corsi di disegno che uscivano una volta a settimana e ho preso il primo il primo i primi due come succede succedeva spesso che uno prende il primo il secondo e poi e poi e il primo nel primo diceva era come se si aspettava cioè io volevo imparare la tecnica volevo imparare la prospettiva volevo imparare il chiaroscuro volevo imparare come mettere le ombre su una faccia a seconda di dove arrivava la luce e e loro come se si prevedessero le mie aspettative che erano aspettative in genere però mi dice all'inizio di questo corso c'erano proprio queste cose qua cioè mi dice noi vi insegneremo la prospettiva al chiaroscuro e tutto ma la cosa principale che vi insegneremo è a guardare e io mi ricordo mi ero offeso avevo pensato sono 16 anni che guardo venite voi a insegnarmi a guardare siete degli illuminati e loro come se si aspettassero la mia obiezione mi proponevano di fare una prova dicevano provate a pensare a qualcuno che conoscete che vedete spesso ma che non è con voi in questo momento che faccia ha la faccia è più tonda o più ovale la linea delle sopracciglie è sopra o sotto le orecchie l'attaccatura dei capelli a che distanza è dalla radice del naso gli occhi sono ravvicinati o distanziati io avevo immaginato il mio compagno di banco che si chiama Bruno Pelosi che vedevo tutti i giorni ma che non è e non avrei saputo rispondere a nessuna di queste domande cioè avrei saputo dire che Bruno era biondo con i capelli azzurri e il giorno dopo sono andato a scuola e ho visto Bruno Pelosi e mi sono accorto che aveva gli occhi molto ravvicinati è una delle persone con gli occhi più ravvicinati che abbia incontrato in vita mia c'è una bibliotecaria in provincia di Milano che ho incontrato tipo sei anni fa che ha gli occhi secondo me più ravvicinati è quelli di Bruno ma è una gara e allora il fatto di doverlo descrivere mi sono accorto che io Bruno non lo vede cioè lui si sedeva tutti i giorni di fianco a casa mia come dentro il pluriball no? sul pluriball c'era scritto Bruno Pelosi compagno di banco e questa cosa di dover fare un processo artistico riferito a Bruno è come se gli avesse sfilato il pluriball e io ho visto Bruno che è una persona molto simpatica l'ho visto fuori dall'imballaggio come e e questo è il primo esempio voglio fare voglio farne un altro che che riguarda la protagonista dei dei miei romanzi una volta qualche anno fa una rivista mi ha chiesto di scrivere una pagina sulla parola originale e a me è venuto in mente Leopardi che che quando cominciava in Italia la moda di questa parola che è una parola che viene dal francese è un calco dal francese cioè originale nel senso di individuo che non assomiglia a nessuno un originale ecco mia nonna me lo diceva spessissimo si proprio un originale e non era un complimento ecco dal punto di vista di mia nonna e Giacomo Leopardi diceva che che a guardarsi intorno lì nell'Italia dell'ottocento che conosceva lui c'erano soltanto degli originali cioè che erano tutti originali contemporanei di Leopardi e di conseguenza scrive Leopardi qualcuno che fosse veramente originale dovrebbe essere uno che non che non fosse originale per niente cioè che siccome sono tutti originali tendono tutti a distinguersi dagli altri uno veramente originale dovrebbe essere uno un conformista ecco io per esempio quando ero un ragazzo avevo 15 anni per rendermi un po' più originale avevo cominciato a fare la cosa che facevano tutti nel 1978 tutti i quindicenni che volevano fare gli originali mi ero messo a fumare mi ero sforzato un po' e per mi tempo perché non mi piaceva ma poi ce l'ho riuscito dopo quando di anni ne ho avuti 48 nel 2011 per rendermi un po' originale avevo fatto la cosa che allora facevano tutti i quarantenni che volevano essere originale avevo smesso di fumare mi ero sforzato moltissimo e ce l'ho riuscito tutte le volte che ho avuto l'impulso a essere originale ho fatto delle cose uguali a quelle che facevano tutti i miei coetanei e che avevano come me la stessa pulsione a distinguersi aveva ragione Leopardi ma se devo pensare alla cosa più originale che ho visto nella mia vita è stata mia nonna Carmela era un periodo che abitavo in campagna con mia nonna Carmela nella stessa casa dove a 13 anni avevo letto il mio primo libro e eravamo io e lei da sole in campagna Basilica 9 in provincia di Parma e un pomeriggio lei è entrata all'improvviso nella stanza dove ero e io subito non l'ho riconosciuta e l'ho vista davvero senza il suo imballaggio da nonna e mi sono accorto che era una donna con il sangue che le pulsava nelle vene e quell'immagine lì non me la dimentico più è stata la cosa più originale che ho visto nella mia vita Carmela Dall'Asta ma non era originale lei era il mio sguardo che in preparato l'ha guardata come se la vedesse per la prima volta quel poeta russo che parlava del sole Mandestam una volta scritto il cielo il cielo è il tuo buonarroti il cielo che c'è tutti i giorni dappertutto a guardarlo bene a tirar fuori quello sguardo lì da Talstoi da Clebnico da Mandestam da poeta a farti crescere dentro la pancia una piccola macchina per lo stupore è come un buonarroti originale sclowski in un libro che si intitola viaggio sentimentale scrive una cosa che a me io sono una persona molto pigra non farei mai niente è la vergogna che mi mette in moto e mi torna nei periodi in cui mi lamento la mia pigrizia mi torna sempre in mente una cosa che scrive sclowski in viaggio sentimentale che scrive l'arte si occupa sempre soltanto della vita cosa facciamo nell'arte risuscitiamo la vita l'uomo è così preoccupato della vita che fa che si dimentica di viverla dice sempre domani domani e questa scrive sclowski è la vera morte qual è invece scrive il grande successo dell'arte è la vita una vita che si può vedere sentire vivere in modo palpabile la pietra che è pietra dico io il sole che è il sole il cielo che è cielo e questa per me questo procedimento lo straniamento è un regalo che l'arte ci fa che ci restituisce il mondo ecco delle volte non c'è bisogno dell'arte per avere indietro il mondo ma sono casi rari uno di questi rari casi è successo a me io ne ho parlato in un libro che esce in novembre per Mondadori il libro si chiama chiudo la porta e urlo e a un certo punto racconto una cosa che mi è successa nel 19... sì nel 19... nel 2012 nel 2012 nel 2012 12 anni fa io mi sono svegliato al mattino io abito a Casalecchio di Reno e non riuscivo più a leggere avevo un libro Ferdelance di Rex Stout che avevo appena letto era lì all'ingresso io come molti dei parmi ho la fettatrice cioè la fettatrice è un oggetto che in casa di un parmigiano è quasi indietro e io ho una bellissima fettatrice a mano che è la cosa più preziosa che avevo in casa mia e non so perché l'avevo appoggiato sulla fettatrice e la copertina io riuscivo a leggere la F e la E ma non riuscivo a metterle insieme non riuscivo a leggere F e allora ho pensato è finita il mio mestiere è tutto è finita quella sera dovevo andare in Lombardia in una biblioteca a fare una lettura e mi sono detto sai cosa faccio imparo tutto a memoria e vado lì faccio finta di leggere e in realtà recito memoria e poi mi sono detto e come fai a imparare memoria coglione che non riesci a leggere allora per vedere se stavo bene o se stavo male mi sono detto sai cosa faccio vado a correre sono andato a correre ho corso mezz'ora e riuscivo a correre riuscivo anche a leggere i cartelli stradali escluso biciclette e stradello baldosauro ho imparato quel giorno che la ciclabile sotto casa mia si chiamava stradello baldosauro mi sono tornato a casa ho letto Ferdelance tutto attaccato ho pensato non dico niente a nessuno sono andato all'epoca io e la mamma di mia figlia non abitavamo insieme anche adesso non abitiamo insieme però andiamo a abitare insieme all'inizio dell'anno prossimo facciamo questo grande passo che mi spaventa un po' 12 anni fa mia figlia aveva però abitiamo vicino insomma a 10-5 minuti in bicicletta 12 anni fa mia figlia aveva 8 anni io ho pensato magari non la vedo più aspetta che la abbraccio sono andato l'ho abbracciata sono tornato poi ho chiamato il mio dottore Gabriele si chiama e gli ho raccontato quello che mi era successo e gli ho detto adesso io stasera vado a fare quella lettura in Lombardia ma quando torno magari mi faccio vedere da uno bravo che mi consigli tu e mi sentivo così intelligente così bravo mi sembrava di essere un paziente modello aver detto al mio dottore una cosa che avevo deciso che sarebbe stata meglio non dirla a nessuno e che mi ero svegliato quella mattina e che non ero capace di leggere Gabriele è il dottore che ho ancora adesso è una soddisfazione che è un mio amico anche uno che ho conosciuto perché leggeva i miei libri e io ho avuto paura dei dottori per tanti anni perché mi trattavano male ecco anche quando avevo 40 anni mi trattavano come se fossi un anziano mi chiedevano se andavo se giravo in bicicletta se facevo del moto così invece con Gabriele riesco a parlare tranquillamente cioè è un mio collega ecco e adesso è un mio amico ecco uno andiamo a pranzi insieme non mi sgrida se mangio un dolce è una persona normale e adesso che sono anziano non ho più nessuna nessuna paura dei dottori ecco ci vuole un dottore così secondo me e gli ho raccontato insomma quella roba lì e Gabriele mi ha detto mi ha detto guarda Paolo secondo me è meglio se a leggere Lombardia oggi non ci andai non ci vai e vai piuttosto a pronto soccorso e ci sono andato mi hanno fatto un attacco alla testa e hanno trovato che forse ho avuto un attacco ischemico transitorio e nell'attacco c'era traccia di altri possibili attacchi ischemici transitori e forse c'è anche di peggio mi ha detto il medico di pronto soccorso abbassando la voce e che era meglio fare una risonanza magnetica io quel di peggio detto con la voce bassa io l'ho tradotto con tumore al cervello io ho tradotto diversi romanzi ho una certa pratica di traduzione e ho pronotato una risonanza magnetica che all'epoca adesso non so ma all'epoca la facevano al Bellaria che è un ospedale fuori Bologna che io giro in bicicletta Bologna era un po' lungo e sono andato con l'autobus col 36 e sono andato a farla una settimana dopo e sono tornato col 36 che al Bellaria fa capolinea e sono uscito dall'autobus ho preso la busta con i risultati nel gabbiotto che c'è lì all'ingresso del Bellaria sono tornato indietro mi sono riseduto nello stesso autobus nello stesso posto di prima ho aperto la busta ho letto che non avevo un tumore al cervello e io quell'autobus lì io mi ricordo tutto di quel viaggio in autobus io ho preso tanti autobus nella mia vita ma quello è stato l'autobus più autobus che io abbia mai preso in vita mia quel 36 era un regalo avevo ancora un po' di vita in regalo e è bellissimo fare al mondo c'è un cantautore russo che ascolto spesso in questi ultimi anni più l'anno scorso si chiama Bulat Akujawa Akujawa quando io l'ho incontrato la prima volta in Russia negli anni 90 cioè l'ho sentito non l'ho incontrato di persona io non mi piaceva perché era un cantautore da vecchi secondo me adesso mi piace giustamente tutto torna è normale e c'è una sua canzone che dice quello che non perdi non lo trovi ecco è bellissimo essere morti rischiare di morire è bellissimo ecco in quel libro lì che esce in novembre c'è anche un'altra cosa della quale parla anche Shklovsky l'energia dell'errore che a me sembra una scoperta fantastica e l'ha fatta un regista sovietico che non si sa bene chi sia ma si dice si chiamasse Kulotsov adesso c'è una ricercatrice bravissima mi dicono io non l'ho conosciuta ma c'è il sindaco di Parma il sindaco di Parma è una persona intelligente uno che insegna storia del cinema che ha libri tralotti in tutto il mondo e che lavora sull'effetto che il cinema fa al cervello ecco anche si chiama Michele Guerra e Michele mi ha detto che c'è questa ricercatrice che è una ragazza giovane che ha scoperto che in realtà non è stato Kuleshov ma è stato Pudovkin a fare questa scoperta sul montaggio però comunemente anche Shklovsky che scrive anni fa scrive appunto negli anni Ottanta lo chiama effetto Kuleshov perché comunemente viene attribuito a Kuleshov e questa cosa questo effetto Kuleshov a me piace moltissimo perché è un po' il mio alibi quando mi rimproverano di ripetere sempre le stesse cose cioè il fatto che io ripeto sempre le stesse cose io credo che sia contemporaneamente vero e falso un po' perché tutte le volte che uno dice una cosa la dice in modo diverso e poi anche se dicesse la stessa identica cosa nello stesso identico modo siccome il contesto è diverso anche la stessa identica cosa diventa una cosa diversa è quello che si chiama appunto effetto Kuleshov Kuleshov è un regista sovietico che si o Pudovki insomma insomma cento anni fa negli anni venti del novecento in Unione Sovietica qualcuno ha fatto un esperimento e e ha filmato quattro sequenze qualche secondo del primo piano di un attore che si chiama Majukhin che guarda il paesaggio qualche secondo di una zuppa fumante e qualche secondo di una bambina stesa come se fosse morta dentro una bara e qualche secondo di una ragazza stesa sul divano poi il regista ha montato le sequenze in questi tre modi primo piano dell'attore e zuppa fumante primo piano dell'attore bambina nella bara primo piano dell'attore ragazza sul divano e la faccia dell'attore Majukhin nel primo montaggio sembra una faccia affamata nel secondo una faccia disperata nel terzo una faccia innamorata e la faccia è sempre quella lì è sempre la faccia di Majukhin come nel paradosso di Momsen è come se il futuro gettasse le sue ombre sul passato cioè quello che viene dopo determina le qualità di quello che c'è stato prima e l'esperimento di Kuleshov o di chi l'ha fatto dimostra penso che sia possibile dimostrare qualcosa che il significato di una cosa cambia a seconda delle cose che lo circondano a seconda della luce che quella cosa lì prende da quello che c'è intorno e questo è il motivo per cui mi permetto di ripetere delle cose che se non ci fosse l'effetto Kuleshov verrebbe anche a me da chiedere ma ti sembra di fare dei discorsi che sono pieni di cose che hai già detto invece l'effetto Kuleshov c'è e non me lo chiedo che tra l'altro anche questa cosa dell'effetto Kuleshov l'ho già detta anche quella un fracco di volte anche qui probabilmente ecco però cambia il contesto se il contesto è uguale cambia il periodo quindi sono tutte diverse che fortuna se no tutte le volte inventarsi delle cose nuove non parlerai mai praticamente con la mia pigrizia allora una cosa che mi io per me io ho cominciato a studiare letteratura russa nell'88 e quella cosa lì dello straniamento è stata una delle prime è stata il primo anno è una delle prime grandi scoperte se mi chiedessero cosa che senso ha avuto per me fare l'università la cosa principale che ho capito all'università al di là del fatto che ho conosciuto un po' la Russia che è stata però il concetto è che significante e significato si condizionano a vicenda cioè che il senso e il suono non sono due cose cioè dire c'è una cosa che mi che mi perché in letteratura ci sono in Italia credo in tutta le letterature ma in Italia in particolare ci sono dei dei come dire dei dei modi di pensare c'è tutta una un un galateo editoriale no per cui per esempio chiedono quando uno scrive o traduce soprattutto quando traduce perché io scrivo delle cose che sono scritte in un modo che nessuno ci va a capire cioè se uno gli piace le prende le prende più o meno così come sono ma quando traduco invece non sono cose che ho scritto io per esempio le ripetizioni no c'è una idiosincrasia nei confronti delle ripetizioni e io mi ricordo una volta culicchia è stato qua e viene qua spessissimo Giuseppe tanti anni fa aveva una rubrica sulla stampa e lui in un episodio di questa lui raccontava una cosa che a me mi ha colpito molto cioè lui stava traducendo American Psycho di Brett Easton Ellis e aveva confrontato la traduzione precedente era la seconda traduzione quella di Giuseppe culicchia e nella prima pagina di American Psycho compare tre volte la parola bus e il traduttore precedente aveva tradotto il primo bus con autobus il secondo con corriera il terzo con torpedone allora è difficilissimo per un lettore italiano capire che quel torpedone lì che c'è alla fine è lo stesso autobus che c'era all'inizio che si era trasformato incomprensibilmente noi sappiamo che autobus e corriera sono due cose diverse che hanno due funzioni diverse e io ho raccontato questa cosa a una a una persona che ho incontrato una sola volta in un in un bar di Bologna e mi ha detto una cosa memorabile la raccontavo a un nostro comune conoscente intanto c'era anche lui e lui mi ha detto che se io incontro la parola torpedone in un romanzo ho l'impressione che sia successo qualcosa di brutto e secondo me sarà già torpedone già uno viene da dire in che senso torpedone io non so cosa sia un torpedone potrebbe essere un animale mi viene in mente un verme grosso un torpedone e allora ma e perché la cosa che mi che mi chiedo perché quel traduttore lì ha tradotto quella roba lì così e mi viene da rispondere perché a scuola le maestre ci dicevano di non fare ripetizioni ma di usare dei sinonimi a parte che autobus corriere e torpedone non sono sinonimi ma la ripetizione cioè in un ambito scolastico questa cosa ha anche senso cioè è uno strumento che serve ai maestri per capire il bagaglio lessicale degli allievi ha senso ma in un romanzo di Brett Easton cioè che bisogno ha Brett Easton Ellis di far vedere il suo bagaglio e poi tu sei il traduttore se lui ha usato tre volte la parola bassa te devi tradurre tre volte con la stessa parola cioè non è se cambi il significante cambia anche il significato cioè e questa cosa qua è così chiara nelle cose che e tanto e sono così chiari così potenti così intelligenti quei critici lì di quegli anni lì che si muovevano Viktor Sklowski ha scritto negli anni 20 e il 900 i colori della bandiera dell'arte non possono mai riflettere i colori della bandiera che sta sulla cittadella del potere che era una cosa terribile e lui ha pagato le conseguenze di questo cioè erano davvero poi dopo ha rinnegato ma ma erano così così intelligenti c'era questo gruppo di persone così che è una meraviglia io non il questo questo articolo l'arte come procedimento è probabilmente la cosa che ho letto di più nella mia vita io ho un'edizione in audio dei formalisti russi che è tutta rovinata con le pagine tutte insieme probabilmente è una grande monologo teatrale di Raffaello Baldini sempre pubblicato lei now si chiama la fondazione che io tutti gli anni faccio un corso è l'ultima lezione leggo per intero quella cosa lì che dura un'ora e allora la cosa che volevo dire è che io ho conosciuto praticamente contemporaneamente mi sono messo praticamente a studiare contemporaneamente Tal Stoi e è come se io faccio fatica a capire chi viene dopo e chi viene prima cioè è come se Tal Stoi delle volte scrivesse per confermare le teorie di e per esempio io ho una scuola a Bologna che si chiama scuola Carienin l'abbiamo chiamata Carienin non Carienina Carienin e l'anno scorso anzi quest'anno abbiamo fatto un corso una scuola che il corso che faccio io si intitola trovare la sedia e ci sono 20 persone 21 che prendono l'impegno di scrivere un romanzo in un anno e io con me mi aiuta Alberto Rollo che è un grande editor di Mondadori e un mio amico e abbiamo proposto a quelli che facevano un corso quest'anno gli abbiamo dato quattro libri che a noi erano piaciuti l'anno scorso gli abbiamo chiesto di leggerli e di votare quello che gli piaceva di più e a quello abbiamo dato il premio Carienin e ha vinto un libro di Einaudi io cito solo Einaudi stasera che è un libro di Veronica Raimo La vita è breve eccetera un libro di racconti e io ho telefonato all'ufficio stampa Einaudi per dirgli questa cosa che prima che vincesse che volevamo che Veronica partecipasse e l'ufficio stampa Einaudi che una signora adesso non mi ricordo come si chiama perché non mi ricordo i nomi è tutto coerente quello che dico stasera e ha detto va bene poi mi ha ritelefonato e mi ha detto ma perché l'avete chiamata Scuola Carienin siete maschilisti perché se per questo non ve la mando e lui ha detto no non siamo maschilisti ma perché l'abbiamo chiamata Carienin perché nel romanzo Anna allora il romanzo comincia a casa del fratello di Anna che abita a Mosca Anna abita a Pietroburgo che ha sposato un funzionario importante del governo russo il fratello di Anna Stiva Balconschi ha tradito la moglie con una governante e la moglie la non vuole più vederlo quindi lui dorme nello studio e Anna va per cercare di far riappacificare questi due e viene accolto in questa famiglia e in particolare dalla dalla sorella della moglie del fratello che si chiama Kitty che è una ragazza giovane che è in età da marito e che la sera dopo c'è un ballo dove Kitty spera che un giovane ufficiale che si chiama Avronsky un ufficiale non tanto giovane diciamo un ufficiale che si chiama Avronsky di cui lei è innamorata la chiede in moglie la chiede in moglie un altro che si chiama Lievin un contadino che non le dispiace ma e lei siccome pensa che Avronsky la chiederà in moglie e gli dice no e Kitty dice Anna ma vieni anche tu al ballo e Anna va al ballo e Kitty con un vestito nero e il ballo tasto dice lo racconta tutto dal punto di vista di Kitty che vede che Avronsky ha occhi solo per Anna e non le chiede non le chiede niente e Anna il giorno dopo senza accorcio ha pensato questa bella serata così ma non si è accorta perché non sapeva che Kitty aspettava e prende un treno da Mosca a Pietroburgo questi treni che viaggiano di notte sono ancora adesso c'erano ancora negli anni 90 si chiamavano Krasnaya Strila la stella rossa la freccia rossa scusate come i nostri però prima dei nostri erano treni sovietici quelli di Anna non erano sovietici allora lei viaggia di notte si fermano a un certo punto in una stazione lei esce per prendere un po' d'aria sul marciapiede appena nevicato e vede sullo stesso marciapiede vronsky e gli dice ma lei mi scusi ma lei come mai è qua e vronsky le dice che domanda lei lo sa benissimo io da oggi posso essere solo dove è lei e c'è questa dichiarazione insomma impegnativa subito dopo cade un blocco di neve quindi a enfatizzare ancora di più questa dichiarazione d'amore Anna non dice niente torna nel suo scompartimento vronsky torna nel suo il treno arriva a Pietroburgo i due si incamminano insieme e Anna vede suo marito Karienin che è andato a trovarla a prenderla e la prima cosa che pensa è come mai ha queste orecchie come mai ha quelle orecchie cioè vede suo marito come se lo vedesse per la prima volta e l'attenzione diciamo così il corteggiamento di di vronsky funziona come come straniamento ecco come leva di straniamento e noi la scuola Karienin il sottotitolo è scrivere con gli occhi cioè provocare quell'effetto lì che ad Anna Karienin succede con appunto il corteggiamento di di vronsky e e questa mi sembra una conferma evidente di quello che dice Shklovsky quindi faccio confusione anche se lo straniamento non se l'è inventato tasto cioè ci sono tanti esempi di straniamento una delle cose più che è successa a me io non so conoscete questo fotografo si chiama Luigi Ghirri è un fotografo di Reggio Emilia straordinario che fa delle foto fantastiche di fermare l'autobus ci sono le foto dei distributori di benzina di Ghirri sono bellissime io prima di vedere le foto di Ghirri io pensavo che se pensavo all'Emilia nella mia testa e evocavo delle immagini pensavo il fiume Po e i pioppi e vicino a casa mia non c'è il Po e non ci sono i pioppi però era come se io avessi una cartellina dentro la testa Emilia e aprivo e c'erano quelle immagini convenzionali e dopo che ho visto Ghirri le foto di Ghirri mi hanno fatto capire che in Emilia ci sono anche i distruttori io adesso li vedo fuori dall'imballaggio Ghirri ha fatto quella magia lì di togliermi l'Emilia dall'imballaggio ci sono alcune foto di saracinesche che sono meravigliose di balconi di piante la roba è quella lì e quella cosa lì a me me l'ha regalata Viktor Sklowski e per per tornare al discorso iniziale dopo questa lunga parentesi per dedicare almeno 5 minuti all'energia all'energia dell'errore direi che se mi chiedessero di cosa parla l'energia dell'errore direi che grosso modo il libro parla di come si scrivono i romanzi anche se nell'energia dell'errore Sklowski scrive che il termine scritto è sbagliato si è riferito ai romanzi i romanzi non si scrivono ma si costruiscono dice Sklowski ecco nonostante quel che scrive Sklowski secondo me l'energia dell'errore parla di come si scrivono o di come si costruiscono i romanzi in particolare di come li scriveva o li costruiva Tastoi e racconta tra le altre cose quando Tastoi giovane e incolto parte per il caucaso verso un grande futuro con un flauto che non ha imparato a suonare con un dizionario di inglese con un libro di Stern che non ha finito di tradurre con un ottimo vestito che gli ha fatto un sarto francese e che lui non ha pagato e che avrebbe pagato più o meno dieci anni dopo e scrive Sklowski che quando Cristoforo Colombo che sapeva quel che sapevano gli uomini del suo tempo che conosceva le vecchie e inattendibili carte dopo incredibili sofferenze umiliazioni ottiene il denaro per equipaggiare le sue navi e parte poi verso un mondo sconosciuto che lui credeva che fosse niente quello che faceva era l'energia dell'errore la traduzione di Maria Di Salvo è che Ernst Rutherford alla domanda degli allievi che lo guardavano con venerazione cosa aiuta nel lavoro rispondeva gli ostacoli e intendeva gli insuccessi e scrive Sklowski se per una ragione qualsiasi vi dovesse succedere di ricominciare a vivere non abbiate paura degli insuccessi e scrive che persone felici non ce ne sono e che esistono solo donne gli uomini sono i maschi delle donne e che Talstoi era il maschio di una donna che nelle sue memorie questa donna che si chiama Sofia ha scritto per il genio bisogna creare un ambiente tranquillo allegro comodo al genio bisogna dare da mangiare bisogna lavarlo vestirlo bisogna trascrivere le sue opere un numero infinito di volte bisogna amarlo non fornire pretesti alla sua gelosia perché sia tranquillo bisogna nutrire educare gli innumerevoli figli che il genio procrea con cui però si annoia non trova il tempo di stare perché deve comunicare con i vari epitteti Socrati e Buddha e deve lui stesso tentare di diventare uno di loro la traduzione di Francesca Ruffini e Raffaella se ti bevi l'acqua e che Talstoi temeva non solo la morte ma anche la vita se era quella di sempre e che Talstoi aveva comprato la terra e annotato sul diario ecco adesso ho comprato la terra e gli usignoli cantano come sempre e non sanno che adesso sono miei e non dello Stato e che i bambini con la testa grossa nascono con molta difficoltà e conferma questa energia dell'errore la predilezione di Shklovski con Talstoi perché dice Shklovski che Anna Karienina è tutto costruito su monologhi interiori e sull'incomprensione reciproca cioè sul fatto che la gente non parla veramente che ognuno continua il proprio monologo e che rileggendo il libro ci si stupisce più che leggendo Dostoevsky che in Dostoevsky i personaggi la pensano tutti allo stesso modo scrive Shklovski come se fin dall'infanzia avessero letto un solo autore Fyodor Dostoevsky che lavorando si impara scrive Shklovski col lavoro si diventa più intelligente e dice Shklovski che il cammino di Tastoi è stato continuato da Chekhov e che una volta anche Chekhov aveva detto un suo collega Ivan Bunin che bisogna lavorare molto per tutta la vita e che alla fine di un racconto bisogna buttare via l'inizio e la fine e che è lì che noi scrittori concentriamo il maggior numero di bugie ha detto Chekhov e che l'opera Vittoria sul Sole scrive Shklovski scritta da Klievnikov e Krucionik e con le scenografie di Malevich che debutta nel 1913 comincia con due uomini forzuti che dicono tutto è bene quel che comincia bene e qualcuno dalla sala dice finisce e una voce fuori campo dice la fine non ci sarà e che la grande letteratura russa scrive Shklovski non ha finali diversamente da questo intervento che per fortuna finale c'è